Proseguiranno ancora le proteste del Comitato per la difesa delle terre ioniche avviate nei giorni scorsi per chiedere al governo di emanare il decreto per lo stato di calamità che prevede la nomina di un commissario e di risorse per l'indennizzo di aziende e famiglie colpite dall'alluvione del 7-8 ottobre scorso. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi subito dopo le festività natalizie, non ha ancora adottato alcun provvedimento. Noi non ci fermiamo, questo sciopero della fame continua ma non è solo sciopero della fame. Ci sono una serie di iniziative in corso, non c'è solo il presidio qui a Matera, ci sarà un'iniziativa dalla mattina importante su Marconia, ma noi ove fosse confermata la presenza di Gabrielli saremo a Montescaglioso. A Montescaglioso ci saremo sia perché è chiaro che la battaglia non è per Metaponto, per Marconia, ma è per l'intero territorio e come lo è per tutta la Basilicata e la Puglia lo è anche per Montescaglioso. Nelle prossime ore infatti a Montescaglioso il prefetto Gabrielli, capo della protezione civile, è atteso per la vicenda della frana. Nel frattempo prosegue anche la petizione avviata dal movimento e indirizzata al premier Letta che ha quasi raccolto finora 2000 firme.